Al termine di una partita ben giocata, il notaresco fa sua la vittoria contro il Castelfidardo grazie alle reti di Dorato, Valenti e Pesce. Mister Epifani concede un turno di riposo a Maio, inizialmente in panchina, out Bruno per squalifica e Marcatilli per infortunio. Il Castelfidardo degli ex De Malia, Marcelli e Morganti è a caccia di punti pesanti per uscire dalla zona play-out. Subito, grande occasione per il notaresco, cross avvolgente di Massarotti e colpo di testa di Pesce, che esce fuori di poco. Rispondo di Biancoverdi con la punizione insidiosa di Baraboglia, bloccata a terra da Shiba. Al ventesimo, padrone di casa in vantaggio, verticalizzazione per Valenti che si ritrova solo davanti al portiere. De Malia soppone nell'uno contro uno, ma non può nulla sul tapin di Dorato. Secondo centro in campionato e proteste degli ospiti per una presunta posizione di fuorigioco dell'esterno di Mister Epifani. Reazione marchigiana affidata al destro di Cardinali, neutralizzato in bello stile da Shiba. Nel finale di tempo ancora protagonista Shiba che si oppone al tiro di Fermani andando a colpire il palo. Gioco fermo per alcuni minuti e portiere che continua a difendere la porta. Nel recupero, azione da manuale del calcio del notaresco che si sposta da destra a sinistra. Valenti al volo, piazza alle spalle di De Malia siglando l'ottavo centro in campionato. Un vero e proprio gioiello per il numero 10 di casa. Nella ripresa, altro episodio da Moviola. Pampano viene strattonato in aria, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere la massima punizione. Si riaffacciano in avanti i bianco-verdi, conclusione ravvicinata di Braconi. Shiba è un gatto e devia. Il 3-0 si manifesta alla mezz'ora grazie al tiro di Pesce che spiazza De Malia dopo una decisiva deviazione. Cala il sipario sulla partita, il Castelfidardo tenta da fuori aria con Cusimano, ma non è proprio giornata. C'è tempo per ammirare lo slalom e la gran botta di Valenti con la conseguente risposta di De Malia. Sconfitta che complica i piani salvezza del Castelfidardo. 3 gol, 3 punti e terzo risultato utile consecutivo per il notaresco. Sì, sì, ma è cambiata la testa, è cambiata il modo di pensare, abbiamo preso tante scopole quest'anno, abbiamo avuto tanti problemi. Da questi problemi siamo venuti fuori in questo periodo, in questo finale di campionato, sperando di fare ancora meglio. Perché poi ci mancano ancora tante partite, si può fare ancora, togliersi qualche soddisfazione, sicuramente. Però da quando siamo ripartiti siamo un'altra squadra. Logico che non diamo tanto spettacolo perché è un problema numerico, in questo momento siamo numericamente pochi e quindi dobbiamo anche centellinare le forze. La squadra lo sta facendo bene, sono contento perché abbiamo dato valore al pareggio dalla fine di domenica a Matese. Oggi abbiamo vinto una partita importante contro una squadra che si deve salvare, che è una squadra sempre ostica da incontrare. Noi siamo stati bravi, abbiamo fatto secondo me una grande gara e l'abbiamo anche amministrato bene. Sì, sicuramente sì. Diciamo che siamo stati un po' vittima degli episodi. Però abbiamo perso una partita che noi se vogliamo ottenere quell'obiettivo che è la salvezza dobbiamo dare qualcosa in più. Dobbiamo essere un po' più attenti, più determinati. Abbiamo preso i primi due gol su ripartenze dove siamo stati molto leggeri. Quindi dobbiamo crescere, dobbiamo crescere soprattutto l'atteggiamento, la mentalità. Però sì, un po' fa male per il passivo perché poi tutto questo divario tra le due squadre non c'è stato secondo me. Poi dopo la squadra il secondo tempo ha fatto secondo me un buon secondo tempo, ha interpretato la partita in una maniera giusta, con più convinzione e più sicurezza dei propri mezzi. Quello che magari la prima parte della partita non si è verificato, nonostante che eravamo andati in difficoltà. Però eravamo stati leggermente dimissivi.